A grandi passi ci avviciniamo al termine della prima parte di campionato. Tra poco meno di un mese si chiuderà il sipario sul girone di andata di quarta serie, diciassettesime ed ultima giornata che cadrà mercoledì 21 dicembre. Ancora cinque giornate per permettere alle formazioni del raggruppamento F di volgere al Giro di Boa con quanti più punti possibili per rispettare l'obiettivo stagionale. Il Vasso Girardi proverà a dare una svolta nello scontro diretto in programma domani ad Avezzano. L'ultima affermazione dei giallo-blu risale alla sesta giornata. Dall'ora cinque pareggi ed una sconfitta contro Lavastese per 3-1. Le cinque gare senza né vincere né perdere 0-0 contro Portodascoli e Matese 1-1 al cospetto di Roma City, Termoli e Fano hanno lasciato la mare in bocca. Pur esprimendo un buon gioco ed interessanti trame, la compagine di mister Coletti non conquista l'intera posta in palio ormai da lontano dove Ottobre. Positivo se non altro il fatto di mantenere sempre viva la classifica che vede oggi i molisani all'ottavo posto con 17 punti. Di fronte a una squadra, l'Avezzano, che di punti ne ha 19, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Gli abruzzesi sono reduci dal pareggio in casa del Pineto e prima ancora dal K.O. Casalingo contro l'FC Matese. Una gara che metterà di fronte due squadre determinate a mantenere la zona alta della graduatoria e dalla ricerca dei tre punti. Il giovane tecnico alto molisano potrà contare su tutta la rosa, in porta Petriccione, difesa composta da Canale, Gallo, Gargiulo e Ruggeri. Al centro del campo Anto Giovanni, Grandi Seffiori, con Lorusso, Calemme e Bentos in avanti. Con fischio d'inizio alle 14.30, allo stadio Dei Marsi, Avezzano-Vasso Girardi, sarà diretta da Gianmarco Vailati di Crema, assistito da Marco De Simone di Roma 1 e Davide Fabrizi di Frosinone.